Bella a tutti ragazzi, oggi sono un nuovissimo video, oggi sto facendo il pre partita di Napoli Inter Ecco le formazioni, quelle dell'Inter è anti Napoli, Andano è un 3-5-2 Portiere, Andano, c'è difesa, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barel, Bast... No, la difesa è Skriniar, De Vrij, Bastoni, Centro, Campo, Candreva, Barella, Brozovic, Young ed Erickens Attacco è Lukaku, Lukaku, Lautaro, Martinez E basta, questa è la seconda semifinale di Coppa Italia, vi dico la formazione del Napoli Fabio Arruiz non ce la fa, non ce la fa, il Napoli... ok Portiere, Ospina, è un 4-3-3 Portiere, Ospina, difesa di Lorenzo Mazzini, Kulibali, Kulibali, Isai, basta... Questa partita si vede su Rai 1 alle 21, io sto seguendo la diretta streaming... la sto seguendo i streaming... streaming... ci vediamo al prossimo video... Grazie...